Parliamo di Megan, questo è un Megan con il 3 al posto di lei, quindi Mttregan E' un film che alla fine si può considerare un film del 2023 perché esce domani al cinema Io ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima stampa e ne sono felice perché l'ho visto in lingua originale Non vi sto a fare la filippica, a rispiegarvi da capo quanto i film in lingua originale siano comunque migliori Io penso che anche questo doppiato perderà parecchio Però non vorrei già saltare sul discorso recitazione, diciamo che non stiamo andando a perdere l'interpretazione di grandissimi attori Poi veniamo anche a questo aspetto qua, vediamoci un attimo il trailer E' allucinante quanto questo trailer sia veramente tantissimo spoiler Pensavo non devo spoilerare troppe cose perché comunque non è che sia un film dove accade chissà che Però questo trailer è veramente una roba indecente Vabbè comunque c'è una bambina che perde tragicamente i genitori Si scopre, anche nel trailer lo dice, è la prima cosa che dice E finisce a vivere con la zia, la sorella di sua madre Che è un ingegnere meccanico per una società importante di giocattoli Che produce dei giocattolini parlanti, un po' intelligenti, che fanno un po' di azioni E questa tizia insomma non riesce tanto a ricoprire bene il ruolo di genitore Non si è progettata per quello, non si è mai vista come una madre Però lo deve fare, lo deve fare ma non lo fa Perché la sua vita è tutta concentrata a creare un giocattolo fighissimo, perfetto Che non riesce ancora a proporre i suoi capi eccetera eccetera Poi alla fine in un impeto di non si sa che cosa che la spinge Siccome vede che sua nipote, di cui ormai lei è la figura materna Vede che soffre di solitudine eccetera Non si sa per quale ragione questa cosa la spinga Invece che stare con lei Vede sua nipote triste, sola, che non interagisce con nessuno È un cazzo e invece che stare con lei decide di costruirgli Portare a termine in realtà quello che stava già facendo L'aveva già fatta sta bambina Quindi semplicemente non si capisce bene perché questa cosa abbia influito Sul finire o non finire questo robot, questa bambola La sceneggertura è forzata in diversi punti È così forzata un po' dall'inizio alla fine Che quasi non ci fai più caso Cioè sembra veramente un mondo dove l'assurdo comunque è abbastanza normale Quindi in un certo senso è armonica la cosa Non in un film dove le cose che accadono sono abbastanza coerenti e sensate E poi a un certo punto c'è una cosa insensata No, è tutto abbastanza insensato Perché appunto parte da questi presupposti Come il fatto che questa ingegnera Questa ragazza che è molto intelligente Una specie di nerdona Anche molto pragmatica perché costruisce dei robot a casa sua Anche solo il fatto che riesca a costruire una bambola Estremamente costosa E sofisticata non più con i mezzi dell'azienda Perché l'hanno cazziata ma a casa sua E un'intelligenza Comunque è una bambola che è dotata come vedete Di un'intelligenza artificiale mostruosa Mostruosa perché è un po' assomiglia alle intelligenze artificiali Che stanno nascendo adesso Che sono le intelligenze che imparano dai dati del web Quindi ricorda un po', richiama un po' il concetto di ex macchina Però sono anche molto ingenui Come ci raccontava nella live Aaron Cioè sono come dei bambini Bambini iperistruiti Che in questo caso ha come obiettivo Quello di proteggere la bambina L'unico incipit che gli viene dato a livello di programmazione È quello Cioè far star bene la bambina e proteggerla da tutto e da tutti Questo si capisce perché poi nel trailer ci sono degli scontri Gente che le dà fastidio E la bambola La bambola Megan si metterà di mezzo Allora il film è diretto da Gerard Johnson E prodotto da Jason Blum e James Wan I due produttori di cinema Che hanno sulle spalle tantissimi film In precedenza avevano prodotto insieme solo Insidious Quindi questa è in teoria dopo Insidious Questa è la prima produzione che fanno insieme E penso che qui sia nata Sia sbocciato l'amore Per cui adesso sta nascendo una casa di produzione Che unisce le loro due case di produzione Per creare una mega corporate che fa film horror Quindi una sorta di... Sembrerebbe quasi un monopolio La bambola è un insieme di animatronic E un'attrice, una ballerina Non so se è una ballerina molto giovane e bassa O una bambina ballerina Comunque si percepirà Il fatto che non è sempre la stessa cosa Nel film non si è riusciti a dare Secondo me dei movimenti a questa bambola Che siano coerenti sempre È una cosa che in realtà mi ricorda tantissimo Chucky Perché Chucky che era veramente altissima tecnologia Quando uscì Chucky è un insieme di animatronic ma anche di nani Che hanno interpretato Chucky Il discorso è che sia in Chucky sia in Megan Si vede che i movimenti sono comunque diversi Cioè in alcuni momenti sono più umani e plastici E in altri sono appunto dei pupazzi Mossi da... In modo meccanico Quindi questo... Oggi come oggi lascia un po' il tempo che c'è Questa cosa è... È un po' secondo me Un po' inaccettabile oggi Che non si curi almeno questa cosa qua Mentre invece all'epoca si poteva tranquillamente chiudere un occhio insomma Alla gente piacciono i film sulle bambole Perché le bambole hanno... Ed è comprensibilissimo I film horror sulle bambole piacciono Perché le bambole già di per sé Fanno parte di una particolare fobia Ci sono delle persone Che hanno la fobia delle bambole E ci sono tutte delle ragioni validissime Per cui uno ha la fobia delle bambole Quindi non sto a discutere quello E chi ce l'ha di più di meno Poi sicuramente Può godersi questi film in un certo modo Certo che se una persona ha veramente una paura estrema Delle bambole non guarderà mai Né Megan, né Chucky, né nessun altro film Però se vi fanno un po' di effetto Sicuramente il film inquieta e vi inquieterà Quello che dicono i due produttori è che loro volevano fare Un film sulle bambole Perché il pubblico vuole le bambole Unendo Annabelle con Terminator Allora Secondo me sono stati un po' disonesti Nel fare questo parallelo Perché sì, è vero che Annabelle È una bambola molto grossa Non grossa come Megan Però è una bambola molto grossa Quindi può esserci una similitudine con quella bambola lì È vero che Megan la vedete come aggressiva Sì, è un po' Terminator Però la verità La verità vera Ve la dico io che l'ho visto Questa bambola È più che essere un insieme Di Annabelle con Terminator Questa bambola è Chucky Questa bambola è Chucky E non si discute Questa bambola è la versione Femminile Di Chucky Non solo È la bambola La bambola Assomiglia a Chucky E non a questa descrizione Secondo me furba Che hanno fatto loro Ma il plot Cioè la storia Diciamo di base È la stessa Medesima Di Chucky Il remake Voi sapete che Chucky Il remake Mette da parte Ricrea la storia Della bambola assassina Ma mettendo da parte La componente soprannaturale Quindi Charles Lee Ray Non farà il rituale magico Voodoo Per entrare Con la sua anima Dentro al bambolotto Tipo bello Ma ci sarà Un Un tecnico Cinese Quindi c'è anche Un po' Uno strizzato d'occhio A questo discorso politico Che Perché è stato licenziato Saboterà una bambola E questa bambola Ha un'intelligenza artificiale Che andrà in tilt E farà un po' il cazzo Che gli pare Raga È la stessa cosa È la stessa cosa Perché stiamo parlando Di robotica E di giocattoli Quindi è lo stesso plot Che chiaramente Cambiano Le situazioni Ma Siamo Di fronte a Una Mamma sola Con un figlio E qui siamo di fronte A una Surrogato di mamma Sola Con una figlia Tutti i pezzettini Se li prendete Piano piano E provate a metterli Uno sopra l'altro Coincidono Quindi C'è una rinfrescata In realtà Di Quello che è Un Un plot Già esistente Che è Chucky Remake Però non è che cambia molto Detto ciò Il film È Diretto Girato E ha una fotografia Esattamente come la vedete Nel trailer È un tipo di impostazione Molto commerciale Molto pulita Molto Anche Fake Che è un po' Lo stesso difetto Che aveva secondo me Chucky Il remake Cioè era Un po' finto Tutto Un po' tutto Plasticoso Però Un aspetto Veramente Molto bello Di questo film È la bambola Ragazzi La bambola È veramente Figa È inquietante È una bambola Ambigua Molto ambigua E inquieta Anche disturba Il fatto che sia Così ambigua Una cosa intelligente Che è stata fatta È il fatto che È molto realistica Ma non completamente Se fosse stata Iper realistica Quindi come Il robot di Ex Machina Il robot di Ex Machina Non inquieta assolutamente Non dà nessuna noia Anzi è rassicurante In questo caso La bambola È molto Molto simile A una bambina reale Ma non troppo C'è sempre Quella componente Di Diciamo Deformazione Delle proporzioni O di qualche Aspetto Del viso Che la rendono Comunque Gommosa E non realistica Al cento per cento E quindi Inquietante Questa è Una reazione Tipica umana Quando si ha Di fronte Un umanoide Di cui Non se ne Non si riesce A definire Il contesto Quindi se non si riesce A identificarlo Come umano E quindi Questo cortocircuito Mette a disagio C'è proprio Un meccanismo Psicologico Riguardo a questa Cosa qua Che ha anche A che vedere Con il movimento Infatti Megan a un certo Punto Deciderà di Accovacciarsi E correre Come un cane Praticamente Mi verrebbe da dire Come un quadrupede E questa parte Che è Un po' strana E comunque interessante Dal punto di vista Proprio Della volontà Di creare disagio Quindi una cosa Fatta apposta Per quanto Riguarda La scena La famosa scena Del ballo È esattamente La scena del ballo È esattamente Quello che pensavo Cioè Non c'entra un cazzo Non c'entra Un cazzo Non c'entra Un cazzo Di un cazzo Tant'è che poi Ho scoperto Che nella sceneggiatura Non c'era assolutamente Questa scena Del ballo E che il regista Ha Inserito Questa scena Per rendere Più strano Il momento In cui Megan Rincorre Delle persone Nel corridoio E Lo sceneggiatore Si è ritrovato Sta scena E ha detto Che l'ha trovata Funzionare Secondo me Gli sono girate Le balle Comunque La scena È diventata Virale Ha generato Tutta una Questione Su TikTok Balletti Non balletti Però Ragazzi Voi vedete Il film Che riesce Anche ad avere Un senso Riesce anche Ad essere un film Che veramente Funziona Tira dritto La storia La storia C'è Un po' Stupidotta Ma c'è La storia E poi A un certo punto Sta bambola Di punto In bianco Decide Di fare Una mossa Una Si butta All'indietro Con la testa Fa una Pirouetta Fa un Passo di Danza E fa Questa cosa Qua Che è Veramente Totalmente Ingiustificata E questo Secondo me È tipico Del cinema Di Questo è Tipico Del cinema Di James Wan Il cinema Prodotto Da James Wan Cioè Cose Ficcate Assolutamente A caso Per L'effetto Scenico Che in alcuni Casi Può essere Un elemento Che funziona Perché hai fortuna Perché ti è venuta bene Perché la gente Non si pone Troppe domande In questo caso È qualcosa Di Che Non lo so Che senso Dare a sta roba Però Io ho avuto La sensazione Che se non ci fosse Questa scena Di ballo E semplicemente Megan Li girano i 5 minuti Piglia E rincorre La gente Con la taglierina Ti fa capire Quanto Manchi qualcosa Questo film Che rende Caratteristica Questa mutazione La mutazione In cattiva Come ci arriviamo Al fatto che lei Abbia Preso E fatto questo Balletto Assurdo Non ha È inspiegabile Assolutamente Spiegabile Detto ciò A me non è dispiaciuto Questo villain A me è piaciuto A me piace Megan Questo villain A me piace un casino Quello che Perché mi Perché mi piace Perché alla fine Il villain È disegnato bene È figo Perché è una bambola Ma non è una bambola Cioè è una bambola Ma allo stesso tempo È un androide È come se fosse Una replica Non è veramente Un giocattolo Come tipo bello Lei è un clone Di un essere umano Vuole essere Identica a un umano Non vuole essere Identica a una bambola Come appunto Tipo bello O come Annabelle Lei non è una bambola Fondamentalmente Quindi Mi è piaciuto Mi è piaciuto Questo ibrido Tra bambola E android Realistico Mi piace il carattere Di Megan Perché è Una saccente Del cazzo Perché avendo Lei accesso A tutte le informazioni Di internet Ha una fottuta Cultura Mastodontica E quindi Nel giro di poco tempo Diventa Pedante E Saccente E Pretenziosa Diventa Scomoda Diventa pesante Per la famiglia E per il ruolo Del genitore Che dovrebbe fare La sorella Che però Non era già in grado Di fare all'inizio E mi spiace molto Che comunque Il film non sia Un Buon film Un film Diciamo Che possa diventare Memorabile Ma ho il timore Ho il timore Visto La potenza La potenza Di questo Vill La potenza Proprio Comunicativa Il fascino Che può Generare Ho il timore Che da qua All'eternità Noi avremo Altri film Su Megan È molto interessante Come è stato sviluppato Il volto Con questi occhi Che sono Quasi grigi Sono una sorta Di azzurro Verde Chiaro Io non riesco Neanche a vederlo bene In realtà Perché sono mezzo Cecato Ultimamente Però È proprio Qualcosa Di inquietante Questo colore Degli occhi Che ha Questi occhi Che ha Così grandi Così Sono riuscito A fargli degli occhi Estremamente cattivi Alla fine Alla fine Quando combatteranno E Megan Non vi dico Cosa accadrà Assomiglierà Tantissimo A Chucky E lo scoprirete Vedendo il film Perché Una Una pecca Di questo film Sono Le uccisioni Ragazzi Se da un lato Ho apprezzato Tantissimo Una cosa Cioè Che le uccisioni Sono assolutamente Politicamente Scorrette E questa cosa Io l'ho amata Tantissimo Perché Chi non deve essere Mai ucciso Negli horror Qui viene fatto fuori Per primo Ok Vi dico solo questo Di solito Negli horror Ci sono Dei tabù Anche se Sono già stati Diciamo Affrontati Ci sono dei tabù Che qua vengono Proprio Ci passano sopra Con Con l'asfaltatrice Non gliene frega un cazzo E vanno E questo mi è piaciuto Perché è cattivo È cattivo Da quel punto di vista Il problema è Che non si vede Un cazzo Questo è il classico Horror Che non sarà vietato I 18 Non sarà vietato Forse neanche Non lo so A che cosa sarà vietato Forse sarà vietato Ai 6 anni Perché non si vede Una mazza Non si vede Niente Ed è un peccato Perché Questo è un film Horror puro Quindi noi Quello ci aspettiamo A un certo punto E sarebbe stato Io ribadisco Che questo tipo di film Che un po' Diciamo Fanno il gioco Che fanno in Auguri per la tua morte In auguri per la tua morte Non vediamo mai niente Questo amore 16 volte Ma non vediamo Nulla di che Non vediamo il gore Là ci sarebbe stato Qua ci sarebbe stato Benissimo Il film Secondo me Avrebbe giovato Di questa cosa Perché l'avrebbe reso Molto meno Mainstream Molto meno Per il pubblico Di massa E l'avrebbe reso Un film Per gli ororofili Per i veri Ororofili Quelli che amano Il sangue La scena gore La testa tagliata Amputazioni Sbudellamenti Spiacicamenti Cose del genere Ci stava benissimo Il film Secondo me Schizzava E per me Poteva diventare Qualcosina di più Di quello che è Come giudizio Finale Cerco di darvi un'idea Di com'è il film Il film È una commercialata Per come è girato Per come È fotografato Ma è fatto bene È Dignitoso Esteticamente È fatto bene C'è tutto Tutto a modino Tutto a postino La recitazione È Il minimo Sindacale Cioè proprio Non vediamo Niente Di interessante Se non Leggermente La bambina Protagonista Che Riesce a Trasmettere Qualche stato emotivo In più Perché gli altri Sono tutti piattissimi La protagonista Alison Williams Che ha già fatto Get Outer È assolutamente Cioè appena appena Sufficiente Ragazzi Non Non riescono proprio A intensificare La messa in scena Questi attori qua È un film Molto molto Plasticoso Spiace Perché io In questo film Ci ho visto Un potenziale incredibile Perché si parla Di intelligenza artificiale Quindi si parla Anche in termini Di Filosofici Di intelligenza artificiale Cioè Megan Ha un'identità A un certo punto Vorrà Qualcosa in più Come tutti quelli Che si sentono Di esistere C'è un bel villain C'è una Una bella quantità Di cattiverie Di cinismo C'è una storia assurda Un po' assurda Che sembra Un po' una favola Poteva essere Un film Molto più bello Non lo è C'è di peggio Ecco In questo tipo di cinema C'è di peggio Quindi questo è un po' Tutto quello che riguarda Megan Io penso che però Il personaggio Sia talmente Affascinante Proprio a livello Estetico E E per il fatto Che dentro Ha un'intelligenza Artificiale Quindi un tema Abbastanza Che sarà sempre Di più Nelle nostre vite Penso che Andrà avanti Il franchise Parecchio Il film Penso che andrà Abbastanza bene Poteva divertire Di più Se ci fosse stato Un po' di sangue Ecco